Una nuova esperienza per me che passo dal Consiglio Comunale a fare il Vice Sindaco di questa bellissima città e di questo ringrazio vivamente il Sindaco Abramo per la fiducia, accordatemi, sia per le deleghe che per quanto riguarda la delega del Vice Sindaco. Ringrazio soprattutto il gruppo consigliare di Forza Italia che questo risultato è stato raggiunto grazie al lavoro di squadra che Forza Italia ha fatto. Oggi Forza Italia in Consiglio Comunale conta otto consigli comunali insieme all'obiettivo comune che è espressione civica di Forza Italia, nonché quattro assessori in giunta, una responsabilità per l'intero gruppo e io ringrazio appunto questo gruppo che per il risultato oggi è raggiunto complessivamente.